Il mio romanzo parla di una donna di nome Tullia che vive nella seconda metà del Novecento a Roma in condizioni di privazione, di difficoltà, si apre sulla sua perdita della casa sotto i bombardamenti di San Lorenzo nel 1943 e poi si evolve attraverso le sue vicende esistenziali, personali e professionali fino al termine della narrazione che si ha nel 1990 e attraverso questo arco temporale la osserviamo la seguiamo per le strade di Roma affrontare una serie di prove piuttosto ardua che interessano la ricerca della dignità, della stabilità e di un'affettività impossibile. Per me è stato importante, diciamo, quello che volevo fare con questo libro era raccontare una donna invisibile che vive tra le maglie della società, della storia, che vive una contraddizione permanente tra un'interiorità molto ricca, profonda, una personalità come, diciamo detto, molto forte, tenace, furiosa e un'esteriorità più silente, più anonima, più relegata in un ruolo sociale che la vuole, insomma, in disparte che la vuole in qualche modo appunto invisibile e quindi ecco questo conflitto, da questo conflitto nasce un po' la sua forza, la sua determinazione nell'affrontare tutte le prove che la vita le mette davanti e come l'ho fatto? L'ho fatto riflettendo su questa profonda convivenza di, diciamo, schiacciamento sociale e forza individuale. Sì, allora Roma non è in realtà un retroscena di questo romanzo, Roma è un personaggio è una madre, una matrigna, dialoga costantemente con il personaggio di Tullia ma anche con, diciamo, tutta la popolazione romana. Diciamo, la città non è relegata al ruolo di cornice o di, insomma, di sottofondo di tappeto urbano ma determina a sua volta le azioni dei personaggi, interagisce profondamente con gli stati d'animo, non solo li rappresenta, li riflette ma li causa a sua volta. Quindi raccontare i quartieri popolari ovviamente era indispensabile nel parlare di un personaggio che proviene da una classe sociale che è quella del sottoproletariato urbano e poi questi quartieri mutano da parte a parte all'interno del libro e della narrazione e toccano tutte quelle aree che erano interessate da attività produttive, da lavoro industriale. Quindi quando parliamo, appunto, di, diciamo, dei quartieri di Roma Est, per esempio...